Allora, vediamo di entrare subito nel merito di questa contesa di cui abbiamo parlato. Baldino, comincio da lei come voce dell'opposizione, però le chiedo un giudizio proprio di merito. C'è una questione relativa ad un errore commesso dal governo su questa scelta rispetto ai controlli? Perché l'idea è quella di fare dei controlli diversi, non dei controlli concomitanti, cosiddetti, quindi non durante, ma farli dopo. Qualcuno dice che questo è un modo di evadere i controlli, rischiamo di spendere male questi soldi. Lei la pensa così o pensa che sia una questione pregiudiziale? Guardi, io penso che il punto centrale sia quello che ha rilevato la Corte dei Conti qualche settimana fa, che poi ha fatto emergere il contrasto tra il governo e la Corte dei Conti, che poi è culminato con questo intervento che di fatto fa sì che il governo sfugga da questo controllo concomitante. Cioè, che cosa significa? In corso d'opera, controllo concomitante che può essere richiesto anche dal Parlamento. Quindi in un solo colpo il bavaglio si mette non soltanto alla Corte dei Conti, ma anche al Parlamento, alle commissioni parlamentari che possono adire la Corte dei Conti per chiedere un controllo in corso d'opera. Perché il punto centrale è quello? Perché qualche settimana fa la Corte dei Conti ci ha detto che il governo è in estremo affanno sul PNRR e che nel 2023 sono stati spesi soltanto, è stato speso soltanto un miliardo e due rispetto a circa 30 miliardi che dovrebbero essere spesi fino alla fine dell'anno. E la cosa più importante che ci dice rispetto a questo ricordo... Quindi lei dice, aspetti per essere più chiari, tolgono i controlli perché sono in affanno. Quindi non hanno tempo e alla fine tagliano dei controlli che servirebbero. Quindi abbiamo un controllato che dice ai cittadini, ma soprattutto al governo, gli dice attenzione siete in affanno, datevi da fare perché altrimenti qua rischiamo di perdere la terza, la quarta, la quinta rata del PNRR. Il governo che fa, invece di accelerare per garantire che quei soldi vengano spesi, che fa, elimina il controllore. Perché evidentemente l'ultima cosa che credo che interessi tantissimo i cittadini rispetto alle polemiche tra la Commissione Europea, eccetera, è che gli estremi ritardi si registrano particolarmente sulla missione istruzione ed educazione, quindi sugli asili nido e sulla missione sanità. Cioè le spese più importanti che invece dovrebbero essere messe a terra... Sono quelle su cui siamo più indietro. C'è una dichiarazione del Ministro Fitto di poco fa che dice con la Commissione UE il caso sui controlli al PNRR è chiuso. La precisazione di ieri della Commissione risolve la questione. Io credo che l'ostruzionismo il governo se lo stia facendo da solo, perché prima il Ministro Fitto ha dichiarato di essere in ritardo e che alcuni fondi probabilmente non si riusciranno a spendere. Dopodiché un esponente importante della Lega che sostiene la maggioranza ha parlato del PNRR, Borghi, ha parlato del PNRR come una frittata che ormai è fatta come se fosse in realtà come se fosse in realtà, piuttosto che una straordinaria opportunità per il nostro Paese, quasi una minaccia da dover spendere, questi soldi da dover spendere. Che cosa ce ne facciamo? Quasi la metà li spediamo a casa, ha detto la Lega. Quindi questo è un problema che il governo ha al proprio interno. e siccome non sa come gestire questa situazione... Lì si sono divisi su questo tema, però questa è la posizione della Lega. Come dire a procurare dei capi spiatoi? In che cosa? Addirittura il primo è stato Conte che ha portato troppi soldi in Italia, che forse è stato addirittura troppi soldi in Italia. Poi la Commissione Europea, poi la Corte dei Conti. Beh, no, l'ha detto solo Draghi. L'hanno detto esponenti del governo. Beh, Gentiloni, guardi, qui abbiamo un esponente del PD e io non credo che Gentiloni possa dire una cosa del genere. Va bene, vedremo cosa dice il PD. Noi siamo orgogliosi di aver portato a casa 209 miliardi. Adesso vediamo se il problema è che abbiamo troppi soldi. Il problema è sempre stato che non c'erano risorse per fare le cose importanti. Adesso le risorse ci sono, non riescono a spendere. Il problema chi è? Chi controlla? Ecco, come ha detto il Ministro Fitto, ma come sapete tutti quanti voi in Parlamento, rispetto ai fondi che noi otteniamo dall'Europa, riusciamo in sei anni a spenderne il 30%. È un dato storico. Però annualmente stiamo parlando di una manovra finanziaria, stiamo parlando di 36 miliardi, non di mille mila miliardi all'anno. Se un governo non riesce a spendere 36 miliardi l'anno, che sono una manovra finanziaria, allora che cosa farà quando dovrà fare la legge del bilancio? Uttiamo in tribuna la palla, perché se no, se vuole fare propaganda... Questi sono i conti della serva. Ho sentito dire, si vogliono occultare i controlli, giusto? Bene. Questa norma tanto contestata è la proroga di una norma fatta? No, 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 non è così, perché la norma contestata non è la proroga. La norma contestata è quella che elimina il controllo concomitante. Se ne vuole fare propaganda, allora lo facciamo. Io ero in commissione, l'emendamento l'ho letto, ho ascoltato tutta l'audizione del Presidente della Corte dei Conti. Chissà che lei non l'ha ascoltata a questo punto. No, non solo ho ascoltato quella... Perché le questioni sono due. Una è la proroga e l'altra è il controllo concomitante. Sono due cose diverse. Quindi discutiamo le informazioni corrette che ci guarda a scala. No, il punto che citeremo qui c'è l'emendamento, intanto scritto nero su bianco, composto da due commi, uno è quello della proroga e l'altro quello che elimina di fatto il controllo concomitante, che è una cosa che non era mai... Il controllo Cassese non ci sono questioni concomitanti. Come non ci sono questioni concomitanti? La relazione della Corte dei Conti... Esiste un collegio, esiste un collegio che si chiama Collegio dei Revisori, credo, concomitanti, che è stato istituito proprio per fare... È una questione molto tecnica. Guardi, basta dire a chi ci guarda da casa che si fa un controllo durante l'applicazione del PNRR. Questo sa che cosa significa. Quindi io controllo mentre vengono spesi i soldi e non a posteriori. Vengono spesi i soldi, dottoressa Gentili, non ci siano casi di conflitti di interesse, di corruzioni, di frodi, di doppi finanziamenti, che la criminalità organizzata non sia nidi negli appalti. Vogliamo dirlo questo oppure facciamo finta che questo aspetto non esista? Perché stiamo parlando di questo, stiamo parlando di questo, della trasparenza della gestione del PNRR. occultata, non è campagna elettorale. Sì, sì, è campagna elettorale. È la vera intenzione del governo. È proprio questa. Oltre scusarmi per invece aver alzato la voce prima con l'onorevole Baldino, che è una donna, perché siamo in trasmissione, altrimenti un altro termine, è calabrese, proprio calabrese vera, e quindi io ho alzato la voce. Ci si accalora nei dibattiti e questo sta nel gioco delle cose. Sono accalorati entrambi, quindi sta nel gioco delle cose. Però ecco, proprio su questo, Baldino, vengo a lei per capire. Abbiamo parlato, sono due gli aspetti, le pene, quindi quelli che dovrebbero essere dei deterrenti, e si è parlato tanto di un approccio culturale che dovrebbe essere diverso. Perché, e le faccio una mia riflessione, quello che ha sorpreso tanti è che in questi giorni si è parlato molto di cosa le donne non dovrebbero fare. Quindi si è fatto tutto un discorso a partire dal procuratore che ha detto che non bisogna mai andare all'ultimo appuntamento chiarificatore. Ma non soltanto, si sono fatti tanti discorsi su come le donne dovrebbero stare allerta, quando dovrebbero iniziare a denunciare. Si è parlato di cosa deve fare la donna. Come mai accade questo? Come mai ci si concentra sempre su quello che dovrebbe essere il comportamento femminile adatto? Guardi, allora, mettere in allerta quelle che sono, purtroppo, dobbiamo dire anche a livello statistico le vittime di questo fenomeno non è mai un esercizio banale. Certo. Io credo questo. D'altra parte non è neanche facile quando ci si trova all'interno di alcune situazioni che, insomma, attengono alla vita intima capire, comprendere quello che sta succedendo. Io credo che Giulia non avesse minimamente idea del tragico epilogo che poi c'è stato. Anche perché non ci sono episodi precedenti di violenza in questa relazione. O perlomeno non che siano stati raccontati finora. Non sono registrati al momento. Quindi io credo che sicuramente intervenire dal punto di vista legislativo sulle norme penali può servire. Lo abbiamo fatto col codice rosso. Abbiamo partecipato tutti a quella legge nella scorsa legislatura voluta prima di tutto da Buonafede ma alla quale hanno partecipato tutti abbiamo inaspirato le pene. non serve, ma non basta. Perché quello che a mio avviso serve, serve, forse serve, ma non basta. Non basta perché è necessario proprio un approccio culturale al fenomeno che inizia sin da bambini ad esempio introducendo l'educazione all'affettività nelle scuole. Perché è vero che qui non c'è un tema di possesso. Però c'è un tema a mio avviso da quello che percepisco io di complesso di superiorità rispetto all'essere inferiore che la donna che a quel punto infatti abbiamo visto che aveva due relazioni contemporaneamente che si frapponevano rispetto alla realizzazione della sua vita personale. È interessante quello che lei sta dicendo. Lei in questo caso perché ne parlavamo anche prima... è un complesso di superiorità rispetto alla donna che si frappone alla realizzazione della sua vita e quindi educare i bambini sin da piccoli già nelle scuole al fatto che non c'è un essere superiore o un essere inferiore. C'è una parità piena di genere tra uomini e donne. Poi crescono però. È questo il problema. Grazie a tutti.